GF VIP7, Antonino e Onestini declinano l'invito di signorini, in opera il party. I due ex geffini non hanno preso parte alla festa organizzata da Alfonso, dopo della quale non sono mancate le polemiche. La festa del grande fratello VIP7 sta facendo parlare e non solo per coloro che erano presenti. Infatti, c'è anche chi ha disertato il party organizzato da Alfonso Signorini per chiudere definitivamente questa settima edizione del reality show di Canale 5. C'erano proprio tutti, partendo dagli spartani e finendo ai persiani. Ma non è passata inosservata l'assenza di due ex geffini protagonisti di questa edizione, ovvero Antonino Spinalbese e Luca Onestini. Mentre si accendono le polemiche e un nuovo mistero intorno ad Antonella Fiordelisi, ecco che molti utenti sui social si chiedono che fine hanno fatto questi due ex concorrenti che hanno disertato il party. Antonino Spinalbese non ha potuto prendere parte alla festa organizzata da Signorini perché si trovava a Milano insieme alla figlia avuta con Belen Rodriguez, Luna Marie. Il party, invece, è stato organizzato in un famoso locale di Roma. Dunque, Spinalbese ha giustamente declinato l'invito per occuparsi di sua figlia. Questo perché Belen Rodriguez è risultata positiva al Covid-19. Invece, Luca Onestini aveva anticipato pubblicamente che non avrebbe preso parte alla festa del GFVP7. L'ex tronista di Uomini e Donne si è esposto al riguardo con il suo profilo di Twitter. Amici di Twitter Non si sa quale siano questi impegni che hanno impedito a Luca di ritrovarsi con i suoi amici spartani. I fan del reality show hanno avuto modo di seguire alcuni momenti del party attraverso la condivisione di foto e video da parte degli stessi ex concorrenti. Attraverso queste immagini è stato possibile ritrovare la stessa situazione che c'era in casa. I due gruppi sono rimasti distinti e sparati. Gli spartani da una parte a divertirsi e i persiani dall'altra. Sono tanti i video condivisi da Oriana Marzovi, Daniele D'Amore. Gli spartani da una parte a divertirsi e i suoi amici. Non solo, Nicole Murgia aveva rivelato di non aver trovato fuori i suoi amici. Sembra, dunque, che quelli che nella casa di Cina Città Donna Maria identificava come suoi amici oggi non lo siano più. Infatti, Edoardo non appare in alcun video condiviso dagli spartani.